... ... Grazie. 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 non ho fatto. Esiste un effetto che si chiama a-carn. Si chiama un'e-carn determinante. Poi si sceglie, poi si sceglie. Allora, tu stessi hai tutta la tua parte. E io, tu mi fai tutto. Questa è una offerta. Questa è una offerta. Questa è la piazza. Prendi la carta, la schiena si lavora. Quello che ho fatto con il suo lavoro. Concentro il mio cuore. Dove lo metto? Una fiesta venta? Sì. Due, 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 dieci, 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 dieci. C'è parte. Dieci, 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 dieci. Ok. Sì, 22. Sì, ne ho due. Buon attenzione. Buon attenzione. Buon attenzione. Buon attenzione.